La comunità in mano è organizzata in sei settori di intervento, la famiglia, disabilità, dipendenze, cooperazione e imprese sociali, migrazione e sud del mondo, diaconia. Noi siamo all'interno del terzo settore, il settore delle dipendenze. Il centro di Trigiano, che è unica sede nel territorio barese, accoglie ragazzi con problemi di dipendenza da alcol e sostanze. Mi piace pensare alla comunità in mano e la immagino, quindi attraverso una metafora, la comunità in mano come grembo, grembo che accoglie questi giovani che chiedono aiuto, che arrivano in comunità da una vita difficile, da una vita piena di sofferenze e difficoltà. La comunità in mano non solo risponde in questo grembo che protegge, quindi li protegge da tutto quello che è il mondo esterno, quelle ferite che purtroppo portano ancora prima della dipendenza, che sono causa della dipendenza, li nutre questo grembo, quindi interviene sul recupero delle relazioni, sul recupero dei valori e li forma proprio come una mamma. Ecco, la comunità in mano mi piace pensarla in questo modo. Una mamma che poi li protegge, li nutre e li forma, li forma nel senso che li aiuta anche al rientro nella società. Quindi c'è il vero e proprio poi aiutarli un po' ad uscire dalla comunità. In questa uscita c'è questa apertura che la sede di Trigiano ha attivato da tempo. Noi come gruppo, gli operatori, ci poniamo sempre questa domanda in che modo possiamo aiutare questi giovani che purtroppo vengono emarginati, ancora esiste il pregiudizio nella nostra società. Perché purtroppo chi sbaglia viene messo a volte, non gli si viene data una possibilità. Noi crediamo e vogliamo dare questa possibilità e lavoriamo affinché loro possano rientrare. Quindi rientrare nel territorio loro, là dove è possibile, recupero delle relazioni con le famiglie, recupero con se stessi. Quindi, ecco, educare i nostri giovani a sognare. E quindi questa apertura, questa parola apertura, che non è un'apertura solamente di chi parla, di chi racconta, ma un'apertura che ci riporta a fare spazio perché questa mamma li tiene dentro e quindi attraverso gli operatori che condividono la loro vita con i giovani. È uno stile che la comunità pratica, accogliere e condividere. Accogliamo queste persone con una storia particolare e condividiamo la nostra storia con loro e accompagnandoli poi in un percorso di recupero e di uscita dalla comunità. Quindi l'apertura è fare spazio, cioè fare spazio dentro di noi e fare spazio per permettere a loro di avere un'altra possibilità. Quindi la formazione, la ricerca lavorativa. E in tutto questo il territorio di Trigiano è molto sensibile ed è molto disponibile attraverso i volontari. Abbiamo organizzato questo incontro che nasce da un'iniziativa direttamente dai nostri giovani, dagli utenti che noi abbiamo accolto qua in comunità, con il nostro medico che costantemente veniva interpellato da alcune domande. L'incontro ha questo titolo di un incontro informativo di prevenzione sull'HCV, le malattie infettive, che hanno a che fare con il mondo delle dipendenze. Quindi sono stati i nostri ragazzi a chiederci maggiore informazione, a voler approfondire alcune situazioni riguardo la salute. Questo rientra nel percorso terapeutico della comunità Emanuel. Le malattie infettive hanno sicuramente un ruolo molto importante nell'ambito della gestione, soprattutto nell'interessamento delle patologie che interessano tutte le fasce di età, da quelle più giovani a quelle anche più anziane. Basti pensare adesso stiamo vivendo per esempio l'epidemia influenzale, quindi tutta una serie di problematiche che riguardano le malattie infettive. E quello su cui abbiamo discusso in questa interessante giornata è stato prevalentemente le problematiche legate all'epatite, all'epatite C, dove per fortuna c'è una terapia che può completamente erradicare. Abbiamo accennato al problema dell'HIV che non è assolutamente finito, come abbiamo sentito anche dei dati epidemiologici non solo della nostra regione, ma anche a livello nazionale. e anche di altre forme, tipo l'epatite B, l'epatite A e altre... Il concetto quale è importante? Quello di fare il test. Cioè una persona deve essere correttamente informata su come si può prendere o come si può evitare di prendere queste forme di malattie infettive, alcune delle quali, tipo l'HIV, che non sono assolutamente erradicabili. E poi soprattutto quali sono i test da fare. Non basta il classico esame del sangue generale, ma dei test specifici che si possono fare senza avere nessun problema, rivolgendosi al medico curante o rivolgendosi nei centri di malattie infettive. Questa leggenda del barese grandissimo mangiatore di frutti di mare crudi, che poi corrisponde spesso alla realtà, il problema è che arrivano, dato l'elevato consumo, arrivano delle partite di frutti di mare crudi e derivati, spesso che per soddisfare la richiesta arrivano e non sono controllate. Per cui il concetto del rischio è l'epatite A, ma soprattutto delle infezioni, tossinfezioni alimentari e anche la salmonella, il tifo e via dicendo. Il problema è l'attenzione all'igiene alimentare, perché tutte le malattie cosiddette trasmissioni orofecali praticamente possono essere trasmesse. Non perdiamo soltanto dei frutti di mare, perché la maggior parte dei casi di epatite A, per esempio deriva invece dalla verdura cruda, che viene appunto irrorata con acque contaminate, spesso provenienti da fogne, e quindi poi non viene sufficientemente lavata bene e c'è il rischio di contrarre questa infezione. Seguo tutti gli ospiti della comunità in quanto medico di famiglia e quindi sono ospiti che seguo giornalmente. Diciamo che in particolare per quanto riguarda il problema delle epatite qualcuno di loro ha avuto problemi in questo genere, però tutto sommato non è un grande problema questo per quanto riguarda la comunità. In genere loro sono seguiti, non hanno dei problemi particolari, è proprio semplicemente una comunità e quindi facciamo attenzione semmai più alla vaccinazione antinfluenzale, attenzioni di tipo diverso, ma tutto sommato hanno un vissuto normalissimo, quindi senza particolare attenzione a nulla di tutto questo. Ho ribadito quella che è l'attività terapeutica della comunità, che non solo riabilita e cura affrontando le problematiche psicosociali e sanitarie dei nostri ospiti, ma significa anche fare prevenzione. La prevenzione significa informare e formare alla conoscenza corretta e puntuale di quelle che sono le malattie correlate all'abuso di sostanze sia psicoattive che alcoliche e questa informazione e formazione non riguarda solo i nostri utenti, ospiti del centro, ma anche i familiari che devono condividere, convivere con queste problematiche. Quindi poiché la comunità non agisce, non lavora solo sul singolo, ma sui microsistemi e macrosistemi, anche questo tipo di attività vengono considerate utili alla prevenzione anche della comunità intera. Pertanto questi incontri noi li promuoviamo come apertura della nostra realtà al contesto dove noi viviamo e dove noi lavoriamo. Nell'incontro in effetti c'è questa presenza del territorio e infatti sono ospiti anche alunni di scuola superiori che hanno svolto un progetto alternanza scuola lavoro perché devono appunto essere attenti a quelle che possono essere gli ulteriori sviluppi di un abuso o uso delle sostanze ma anche di comportamenti scorretti, stili di vita scorretti che hanno come conseguenza queste malattie di cui oggi abbiamo parlato. Qui in questo centro c'è una ricomposizione della nostra vita, rimettere i nostri dadi a posto, ricomporli non perfettamente ma nel migliore dei modi per poter affrontare una vita, farà virgoletto, una vita normale al di fuori di qui, una vita come tutti gli altri esseri perché noi siamo a discapito degli altri siamo persone che siamo talmente deboli e talmente fratici che siamo finiti a dover venirci ad apprendere come si possono affrontare queste difficoltà al di fuori della comunità. Questo poi è un ritrovo dove si crea una famiglia e questa famiglia ci aiutiamo a vicenda per riuscire a sconvincere questi altri problemi, a superare, ad affrontare le nostre difficoltà. Iniziando al lavoro, poi al lavoro anche i servizi fatti in casa, a cucinare, potessi anche gestire da solo perché un domani potesse che qualcuno di noi abbia dei progetti di vivere da solo, di affrontare la vita quotidianamente da solo. Il mio sogno è il cassetto e il servizio. Il servizio per me sarebbe dare servizio agli altri, chiamavano i traparenti sfortunati come me, che hanno bisogno di una mano, di essere guidati per una vita migliore. Grazie a tutti.